Pazza Surraco, poi torna da Luci, siamo quasi in zona tiro, il tocco invece ancora per Surraco, posizione regolare, palla dentro, c'è una deviazione, è il gol del Livorno! Il Livorno sblocca la gara al sedicesimo sull'iniziativa di Surraco, la deviazione in rete. Attenzione a Surraco che ruba ancora palla, non dà di impressione su difensori avversari, tutto regolare, palla dietro, per Tavano il destro! Ciccio Tavano, 2-0 Livorno! La battuta in mezzo di Ronaldo, il colpo di testa, il gol del Padova, accorcia le distanze, il Padova ha segnato vantaggiato. Attenzione a Tavano, Tavano ma che cosa ha fatto Dionisi? Un colpo di tacco fantastico! Per Ciccio Tavano! Va Ronaldo, va in porta Ronaldo! E trova il gol del 3-2, ha sorpreso, ha sorpreso Mazzoni! Posizione regolare, per vantaggiato! Che trova il gol del 3-3, pareggia il Padova! 3-3 del Padova! Ha segnato ancora vantaggiato! Grazie!